Ragazzi, buongiorno, benvenuti e bentornati qui ad un nuovo appuntamento con Mesh e Fabio alla Cucina per Tutti, ovvero la mia cucina a vostra disposizione. Cosa andiamo a cucinare oggi? Beh, visto che è stagione di carciofi, ho detto perché non fare un buon secondo piatto di pesce dove possiamo unire due ingredienti davvero ottimi ma anche semplici da realizzare. Facciamo calamari con carciofi. Vedrete che il piatto sarà davvero ottimo, il risultato finale non sarà da meno. Quindi io sono Chef Fabio, mettiamoci lavoro perché Fornetti ci aspetta. Veloce veloce andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci serviranno per questo piatto. Allora, 700 grammi di carciofi freschi da pulire, 300 grammi di calamari, vi consiglio di prendere quelli un pochino più piccoli, un peperoncino, due spicchi d'aglio, in alternativa potete anche utilizzare lo scalogno, una fogliolina di alloro, un bel mazzetto di prezzemolo, una tazzina di vino bianco e ovviamente ci servirà anche dell'olio. Mettiamoci quindi al lavoro ragazzi! Partiamo con i carciofi. Allora, io ho preparato qui una bacinella con dell'acqua e del limone. Questo perché quando noi andiamo a tagliare la verdura non vogliamo favorire l'ossidazione. Di conseguenza l'acido del limone andrà a impedire proprio l'ossidazione. Quindi la prima cosa da fare sarà quello di togliere le foglie in eccedenza e io taglio per primo il gambo, come vedete. Ne lascio comunque una porzione abbondante e generosa e completo l'operazione con un pelapatate togliendo tutta la parte che non ci piace e che non è ovviamente commestibile. Faccio questa operazione con tutti gli altri. Una volta che ho terminato li metto a bagno in acqua e limone. Con i gambi abbiamo finito. Ora prendiamo il nostro carciofo, il nostro fiore di carciofo e andiamo a togliere via queste eccedenze. Vedete? Tutta questa parte noi la possiamo eliminare. Una volta che abbiamo tolto via le eccedenze tagliamo il carciofo in spicchi, in questo caso in quattro spicchi e con un coltello seghettato andiamo a togliere via la barbettina che c'è all'interno. Vedete? Noi la andiamo a togliere via. È una sorta di barbetta, sono dei pelettini. La andiamo a eliminare come abbiamo fatto in questo caso e poi inseriamo il nostro carciofo, il nostro spicchio, sempre in acqua e limone insieme ai gambi. Operazione completata della pulitura dei carciofi. Ora io ho preso una pentola, ci ho inserito dell'acqua. Andiamo a mettere anche due cucchiaini di sale grosso, in questo modo. Accendiamo il fuoco e andiamo a buttare nell'acqua i nostri carciofi puliti. Come potete vedere ormai qualche minuto che i carciofi sono nell'acqua e limone non hanno cambiato colore, sono rimasti belli, sono rimasti freschi come quando li abbiamo tagliati in origine. Quindi con una schiumarola andiamo a mettere i nostri carciofi nella pentola con l'acqua. Mentre i carciofi sono in fase di bollitura, noi vogliamo concentrarci sui calamari. Allora io ho già cominciato un po' il lavoro, come facciamo per pulire i calamari? Allora innanzitutto il calamari ha questo ciuffo, noi vogliamo entrare un po' con le dite e cercare di tirare via tutta la parte che non ci serve, che non è commestibile, dove ci sono all'interno tutti gli intestini. Poi togliamo anche questa parte, vedete, noi la sfiliamo perché appena appena esce dal calamari, noi sfiliamo via anche quest'altra parte, non ci serve, la buttiamo via. Teniamo due piatti a disposizione nostra, il primo dove butteremo via gli scarti, il secondo dove metteremo, diciamo, la nostra parte del calamaro commestibile. Per pulire l'intestino all'interno, vi dicevo prima che è meglio prendere un calamaro piccolo e perché riuscite in maniera molto facile, tenendo semplicemente con un dito, in questo modo, vedete, tutta la parte che non è commestibile, che non è buona da mangiare, la tiriamo fuori con molta facilità e la mettiamo da parte. La stessa cosa facciamo con il ciuffo. Il ciuffo ha gli occhi, come potete vedere qui, noi li andiamo a tirare via e lasciamo solo il nostro bel ciuffo intonso e pulito. Completiamo l'operazione con tutti i calamari, gli diamo una sciacquata e poi continuiamo con la nostra preparazione. Abbiamo pulito i calamari, ora priviamo della pelle il nostro aglio e cominciamo a tagliarlo. E faccio la stessa cosa con il peperoncino. Andiamo a tagliare insieme sia l'aglio che, come vedete, anche in questo caso, il peperoncino. Vedete? Abbiamo fatto il trito di peperoncino e aglio, ora lo mettiamo da parte, aspettiamo che i carciofi hanno completato la bollitura e poi cominceremo con la cottura vera e propria di questo piatto. Sono andato a mettere il trito di aglio e peperoncino all'interno di un wok con dell'olio abbondante, olio extravergine d'oliva, mi raccomando. Nel frattempo io ho spento i carciofi che hanno completato la loro bollitura, li lascio momentaneamente nell'acqua, sotto al wok, accendo il fuoco e quando il trito comincia a soffriggere vado ad inserire il nostro pesce, i nostri calamari. Sta soffriggendo il trito, mettiamo il pesce. Io non ho volutamente tagliato i calamari perché li voglio tenere interi. giriamo affinché l'aglio non si bruci e andiamo a mettere anche del sale. Guardate come si stanno gonfiando i calamari, era esattamente il risultato che volevo ottenere. Benissimo, stanno cominciando a rilasciare il liquido i calamari. Io cosa faccio quindi? Il fuoco è medio, ora prendo il mio bel bicchiere, la mia bella tazzina di vino bianco e sfumiamo. Una volta che tutto l'alcol sarà evaporato, vado a mettere i carciofi. È arrivato il momento di mettere i carciofi. La nostra schiumarola. Guardate che bel colore che hanno. Questo perché li abbiamo messi a bagno nell'acqua e il limone. Mettiamo anche la nostra foglia di alloro intera, perché così poi a fine cottura la togliamo. Mescoliamo per bene. E andiamo ad aggiungere un altro pizzico di sale. Ecco qua. Diamo un'altra bella mescolata. E copriamo per completare la nostra cottura. Ci vorranno circa 10 minuti. Se ci accorgiamo che durante la cottura comincia a perdere molta acqua e quindi ad evaporare, noi prendiamo l'acqua di cottura dei carciofi e la mettiamo irrorando in questo modo. Ecco cosa ci serve tenere da parte la pentola dove abbiamo cotto i carciofi, a fare questo tipo di lavoro. Continuiamo la cottura. Altri 5 minuti. Io ho tolto il coperchio, vado a completare la cottura a coperchio aperto, così l'acqua evapora tutta. E poi dopo andiamo a impiattare. Nel mentre io vado a togliere anche la foglia di alloro, che ha profumato davvero molto questo buon sugo, questo buon secondo. Dopo andiamo a impiattare. A più tardi. Come ultima cosa mettiamo il prezzemolo che abbiamo precedentemente tagliato. Possiamo andare a impiattare. Mi sono preparato anche dei piccoli petali di limone. Prendiamo anche un paio di carciofi e un paio di calamari. Mettiamo anche un po' di sudetto. Il piatto è pronto. Ora andiamo ad assaggiare questo piatto partendo da il nostro amico caramaro. sono cotti molto bene. Ci sente questa nota di peperoncino abbastanza spiccata, ma che non rovina il piatto. Andiamo ad assaggiare invece i nostri calamari. Ho detto calamari, ma intendevo ovviamente i carciofi. È davvero molto buono. Questa prebollitura ha fatto in modo di far diventare morbido il carciofo e nella sua totalità il piatto è davvero composto molto bene. Vi consiglio di farlo. Seguitemi come sempre su YouTube, ma anche sulla mia pagina Instagram. Ricordatevi una cosa molto importante ragazzi. Attivate le notifiche per ricevere sempre in maniera aggiornata i video che verranno caricati proprio sul mio canale. Dalla Cucina per Tutti e dal Chef Fabio vi saluto e vi auguro una buona giornata. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao.